Il nostro studio ha indagato se la personalizzazione degli ambienti naturali ricostruiti virtualmente dentro cui inserire elementi come il meteo, nuvole, pioggia, sole eccetera, l'ombra, i fiori, alberi, animali ed altri elementi del paesaggio, così come la presenza di stimoli audio, il rumore della pioggia, del vento, il cinguettio degli uccellini, la musica, potessero in qualche modo migliorare l'esperienza e far provare all'utente uno stato di rilassamento. Su 23 persone coinvolte nello studio, 22 hanno partecipato all'esperienza con la realtà virtuale e di queste nessuna ha provato degli effetti collaterali o dei sintomi come nausea, mal di testa legate all'uso del visore. Questo è un ottimo dato e promettente per far sì che vengano fatti anche altri studi in seguito e inoltre le persone in generale si sono sentite coinvolte, hanno apprezzato l'esperienza fatta. E un altro dato importante, soltanto a livello ancora preliminare, quindi ci servono altri studi per poterlo approfondire ulteriormente, è il fatto che abbiamo notato un aumento dello stato di rilassamento e una riduzione dell'ansia percepita proprio nel momento in cui le persone facevano l'esperienza. Quindi questi dati sono dei dati preliminari che ci permettono poi di poter impostare degli ulteriori studi per andare a vedere più in dettaglio l'efficacia di questo tipo di intervento sull'ansia e il rilassamento e in generale per poter eventualmente vedere se questa è un'attività piacevole per le persone all'interno della casa di cura Grazioli e più in generale per le persone che hanno un deterioramento cognitivo. La vede l'erba adesso? Se guarda davanti a sé, tiene gli occhi aperti e guarda davanti a sé. Un po', un po' la vedo, non è eccessiva, allargata. Limpido, che bello. Anche questa è la stessa cosa che quella di prima. Questa è l'ombra di quella di prima. Questa qui è la luna. Beh, è stata un'esperienza entusiasmante che ci ha coinvolto molto sia sul fronte, diciamo, di partecipare comunque a un processo innovativo di ricerca così importante come azienda, ma anche sul fronte, diciamo, familiari e personali, è stata accolta con grande favore. Questa è un'esperienza entusiasmante. Questa è un'esperienza entusiasmante.